Questa maggiore apertura degli avvocati sulla valutazione del magistrato io la reputo negativa perché poi tra l'altro non c'è nemmeno il procedimento inverso, perché i magistrati non possono dire nulla sulla valutazione degli avvocati nel loro consiglio, nella loro struttura e organizzazione. Poi soprattutto anche nel criterio di valutazione di professionalità e di progressione in carriera, direttive similative, i pareri del consiglio dell'ordine e la votazione dei magistrati prevede che la valutazione di professionalità si tenga conto delle segnalazioni positive o negative del consiglio dell'ordine, quindi ci rendiamo conto un magistrato che ad esempio nel corso di indagini di mafia, capita in processi di mafia come è capitato in Calabria, in ogni indagine di mafia di arrestare uno, due o tre avvocati anche importanti di fama nazionale con incarichi pubblici e anche politici nazionali, si trova poi il magistrato si prova poi ad essere valutato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di quel foro, quando in modo sistematico ad ogni arresto di un avvocato, due o tre, nello stesso processo dopo un'ora ad esempio le camere penali fanno un documento di solidità senza aver avuto nemmeno il tempo, perché si notificano ordinanze di custodia cautelare di 5 mila anche di 10 mila pagine e dopo un'ora le camere penali di tutta la regione, quindi di due distretti di Reggio Calabria e di Catanzaro hanno fatto il documento di solidità, ora voi capite questi magistrati che hanno firmato i 3-4 magistrati e che hanno firmato la richiesta di custodia cautelare, il GIP che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare, il riesame che ha confermato ad esempio l'arresto, voi vi rendete conto quale serenità possono avere questi magistrati, perché ripeto il fenomeno è diffuso e sistematico, quindi attenzione a questa grande apertura che voi state facendo, non capisco tutto questo controllo che la politica intende fare o intende apportare sui magistrati come se fosse un qualcosa, viene valutato, visto come un qualcosa di punitivo, di punitivo, cioè questo controllo da parte degli avvocati è come se fosse, gli avvocati sono parte, sono parte e non si può fare il parallelo con gli avvocati componenti del Consiglio Superiore di Statura, perché come ho detto gli avvocati del Consiglio Superiore di Statura non possono fare gli avvocati, non possono nemmeno utilizzare lo studio, gli altri non possono nemmeno utilizzare la carta intestata con il nome dell'avvocato che in quel momento è il Consiglio Superiore di Statura, quindi guarda con quante garanzie e quanto rigore è stato usato per il CSM e ora questa apertura a che pro? Cosa pensate di ottenere in più? Maggiore efficienza? L'Europa ha chiesto all'Italia maggiore efficienza, velocizzazione, del processo, non controllo su chi amministra la giustizia, non maggiore controllo su chi amministra la giustizia.